buongiorno a tutti io sono giulia rossolillo insegno diritto dell'unione europea all'università di pavia e sono direttore della rivista al federalista e vi parlerò della struttura istituzionale dell'unione europea in particolare il mio obiettivo è farvi vedere come l'unione europea nonostante sia un'organizzazione estremamente avanzata e abbia raggiunto degli obiettivi che non sono stati raggiunti in nessun'altra parte del mondo sia ancora un'organizzazione che dipende in gran parte per il suo funzionamento dai suoi stati membri e quindi come l'unione europea sia tuttora diversa da uno stato quindi nell'illustrarvi il funzionamento delle istituzioni dell'unione cercherò di farvi capire qual è la differenza tra il funzionamento di queste istituzioni e il funzionamento delle istituzioni statali e quindi che cosa dovrebbe cambiare nell'unione europea per trasformare l'unione europea in uno stato federale vi dicevo che l'unione europea è un'organizzazione internazionale le organizzazioni internazionali sono degli enti che vengono creati dagli stati per gestire in comune determinate competenze per esercitare in comune certe competenze relative a certi settori oggi nel mondo ci sono tantissime organizzazioni internazionali e in particolare da dopo il secondo conflitto mondiale si sono sviluppate tantissime di queste organizzazioni sicuramente la più conosciuta è l'ONU le Nazioni Unite ma ci sono tantissime altre organizzazioni il consiglio d'Europa l'organizzazione mondiale della sanità e tantissime altre organizzazioni eh di ogni tipo l'Unione europea è un'organizzazione internazionale però se voi paragonate il funzionamento delle organizzazioni internazionali classiche con il funzionamento dell'Unione europea vedrete che l'Unione europea è un'organizzazione particolarmente evoluta cioè si fonda su dei meccanismi di funzionamento che sono molto più avanzati rispetto a quelli su cui si fondano le organizzazioni internazionali classiche prendete le organizzazioni internazionali classiche prendete ad esempio le Nazioni Unite gli organi delle Nazioni Unite sono composti da individui che però siedono in questi organi non a titolo personale quindi non portano la loro posizione personale ma siedono come rappresentanti del loro stato di provenienza quindi eh i rappresentanti italiani all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite portano la posizione ufficiale del governo italiano inoltre nelle organizzazioni internazionali classiche di solito non vengono emanati atti vincolanti l'atto tipico delle organizzazioni internazionali sono le raccomandazioni quindi un invito agli stati a tenere un certo comportamento che però non obbliga gli stati a tenere quel comportamento molto spesso le decisioni prese nelle organizzazioni internazionali classiche sono prese all'unanimità e quindi è necessario che tutti gli stati siano d'accordo perché si possa prendere una decisione e nelle organizzazioni internazionali classiche non esiste un organo giurisdizionale una corte che possa controllare la legittimità dell'attività dell'organizzazione. Nell'Unione Europea invece queste caratteristiche sono diverse o almeno in parte diverse perché nell'Unione Europea esistono anche degli organi che non sono composti da rappresentanti degli stati e che quindi non portano la posizione ufficiale dello Stato ma sono composti da individui che vi siedono a titolo personale l'Unione Europea può emanare degli atti vincolanti anzi addirittura può emanare degli atti i regolamenti che si applicano direttamente negli ordinamenti degli stati membri molte decisioni dell'Unione Europea sono prese a maggioranza e non all'unanimità e inoltre nell'Unione Europea esiste un organo giurisdizionale cioè esiste una corte di giustizia che può vagliare la legittimità dell'attività dell'Unione Europea. Quindi l'Unione Europea è un'organizzazione internazionale estremamente avanzata e i risultati che sono stati raggiunti con il processo di unificazione europea sono dei risultati straordinari. In nessun'altra zona del mondo voi avete degli stati così integrati tra loro e non avete un mercato comune come quello europeo nel quale le merci, i servizi, le persone, i capitali possono circolare liberamente, nel quale gli ordinamenti degli stati sono strettamente integrati tra loro, nel quale anche i diritti dei cittadini europei si sono molto rafforzati attraverso il processo di integrazione europea. E tuttavia l'Unione Europea anche se è così avanzata è ancora un'organizzazione nella quale gli stati membri tengono il coltello dalla parte del manico cioè nella quale gli stati membri almeno nei settori cruciali del funzionamento dell'Unione Europea sono in grado di bloccarne il funzionamento o di influenzarne fortemente il funzionamento. Quando quindi voi sentite dire spesso a livello nazionale che una decisione è stata presa da un certo Stato per colpa dell'Unione Europea oppure quando si incolpa l'Unione Europea di non aver agito in determinati settori molto spesso questa descrizione, questa narrativa nasconde una verità diversa e cioè il fatto che quando l'Unione Europea non ha agito spesso è perché in quel settore non poteva agire se non erano d'accordo tutti e 27 gli stati membri dell'Unione Europea o quando l'Unione ha preso una decisione spesso l'ha presa all'unanimità tra gli stati membri e quindi sono gli stati membri che hanno deciso in ultima istanza di prendere quella decisione. Ma vediamo come si articola la struttura istituzionale dell'Unione Europea. Vi faccio vedere qualche slide che in realtà poi trovate anche sul sito dell'Unione Europea relativa proprio alle istituzioni. Allora diciamo che le istituzioni dell'Unione Europea si distinguono tra di loro non per le funzioni che svolgono ma per gli interessi che rappresentano. In questa slide voi vedete indicate le quattro istituzioni politiche dell'Unione Europea che sono le istituzioni attorno alle quali ruota tutto il sistema dell'Unione e sono il Parlamento Europeo che rappresenta i cittadini e come vedete il Presidente del Parlamento Europeo è David Sassoli il Consiglio e il Consiglio Europeo che invece sono gli organi che rappresentano gli interessi degli stati e qua vedete indicato il Presidente del Consiglio Europeo è Charles Michel e la Commissione Europea che invece è quell'istituzione che promuove l'interesse dell'Unione Europea e che quindi deve perseguire un interesse superiore a quello dei singoli stati membri e la Presidente della Commissione è Ursula von der Leyen. Accanto a queste quattro istituzioni che sono le quattro istituzioni politiche voi trovate poi altre due istituzioni che sono la Corte di Giustizia che è appunto l'organo giurisdizionale dell'Unione Europea e la Banca Centrale Europea che è un organo che ha una funzione molto peculiare perché appunto si occupa di gestire la politica monetaria dell'Unione Europea. Partiamo dagli organi di stati, cioè vediamo qualche brevissimo cenno al Consiglio e al Consiglio Europeo. Allora, il Consiglio è un organo che è composto dai ministri degli stati membri dell'Unione Europea. Sapete che gli stati membri dell'Unione Europea oggi sono 27, dopo che è uscita la Gran Bretagna, quindi il Consiglio è composto da 27 ministri, ma è un organo a composizione variabile, cioè si riuniscono di volta in volta i ministri che sono competenti per la materia che è posta all'ordine del giorno. Quindi se bisogna discutere di agricoltura si riuniranno i ministri dell'agricoltura, se bisogna discutere di educazione si riuniranno i ministri della scuola, dell'università, se bisogna discutere di questioni economiche che si riuniranno i ministri dell'economia e delle finanze e in questo caso il Consiglio prende una particolare denominazione, cioè viene chiamato Ecofin, ne avrete sicuramente sentito parlare, quindi a seconda della materia che deve essere discussa all'ordine del giorno si riuniranno ministri differenti. Il Consiglio poi è presieduto da uno Stato membro ogni sei mesi, anche qui avrete sicuramente sentito parlare del semestre di presidenza, quindi ogni sei mesi uno Stato diverso assume la presidenza del Consiglio e lo Stato che esercita la presidenza del Consiglio decide quali sono le priorità di quel semestre. Il Consiglio è un organo che esiste fin da quando è stata creata la Comunità Economica Europea nel 1957 e è un organo che ha sempre avuto un'importanza fondamentale nell'Unione Europea. Una delle caratteristiche principali del Consiglio è che il Consiglio è co-legislatore insieme al Parlamento Europeo, quindi ha un ruolo importantissimo per quanto riguarda l'emanazione degli atti dell'Unione Europea. Accanto al Consiglio però esiste anche il Consiglio Europeo. Le riunioni del Consiglio Europeo sono chiamate vertici, quindi vertici dei capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'Unione e anche il Consiglio Europeo, cioè soprattutto il Consiglio Europeo, è l'organo che rappresenta gli interessi degli Stati membri. Questo organo in realtà non esisteva quando è stata creata la Comunità Economica Europea. È un organo che è nato dalla prassi, cioè dalla prassi dei capi di Stato e di Governo di trovarsi, riunirsi periodicamente per decidere gli orientamenti del processo di unificazione europea. Poi questo organo è diventato un'istituzione vera e propria ed è composto appunto dai capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione Europea da un Presidente che viene eletto ogni due anni e mezzo, il Presidente attuale del Consiglio Europeo è appunto Charles Michel e dal Presidente della Commissione. Poi partecipa alle riunioni del Consiglio Europeo anche l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza che è una sorta di Ministro degli Esteri dell'Unione Europea. Questo organo, il Consiglio Europeo, è un organo che ha un compito principale che è quello di dare l'impulso e dare gli orientamenti generali al processo di unificazione europea. Ed è l'organo che rappresenta gli interessi degli Stati per eccellenza. È un organo che sostanzialmente decide all'unanimità, cioè decide per consensus, cioè senza una votazione formale, ma con l'accordo di tutti i componenti, ed è un organo che soprattutto negli ultimi anni ha assunto una notevole rilevanza, perché soprattutto nel periodo della crisi economica o delle crisi che si sono succedute alla crisi economica del 2010, tutte le volte che l'Unione Europea non riusciva a agire perché non aveva certe competenze, è stato il Consiglio Europeo che, riunendosi sempre più frequentemente, ha preso delle decisioni fondamentali per la vita dell'Unione. Queste sono quindi le due istituzioni che rappresentano gli Stati membri, quindi sono composte da individui che rappresentano ufficialmente gli Stati membri, quindi membri dell'esecutivo, per quanto riguarda il Consiglio sono i ministri, per quanto riguarda il Consiglio Europeo sono i capi di Stato o di governo, e a queste istituzioni che rappresentano gli Stati si affianca una istituzione che invece rappresenta gli interessi dell'Unione nel suo complesso, che è la Commissione. Quindi la Commissione non deve portare avanti gli interessi dei singoli Stati membri che sono rappresentati dal Consiglio e dal Consiglio Europeo, ma deve portare avanti l'interesse complessivo dell'Unione al di sopra degli interessi degli Stati. La Commissione quindi è un organo di individui, cioè i commissari, che sono 27, uno per ogni Stato membro, siedono a titolo personale, quindi non devono accettare istruzioni dagli Stati di loro provenienza. Quindi è un organo che è formalmente indipendente dagli Stati membri, è composto appunto da un commissario per ogni Stato membro e la Presidente oggi è Ursula von der Leyen. La Commissione è una istituzione che ha una funzione molto importante perché viene detta la custode dei trattati, cioè la Commissione controlla il rispetto dei trattati da parte degli Stati membri, è il cosiddetto governo dell'Unione, cioè l'organo esecutivo dell'Unione Europea e ha una funzione molto importante perché ha la funzione di iniziativa legislativa, cioè tutti gli atti dell'Unione devono, o quasi tutti gli atti dell'Unione, devono essere proposti dalla Commissione. Per capire però qual è il grado di indipendenza della Commissione e qual è la differenza tra la Commissione e un governo nazionale, bisogna guardare alla nomina della Commissione. La procedura di nomina della Commissione è una procedura abbastanza complessa, adesso non entriamo in tutti i dettagli, ma vorrei mettervi in luce qual è la caratteristica essenziale di questa procedura. Allora, innanzitutto, la Commissione viene nominata in varie fasi, cioè prima si sceglie e si nomina il Presidente della Commissione e solo dopo che è stato nominato il Presidente della Commissione vengono poi nominati i singoli commissari. Allora, il Presidente della Commissione è scelto dal Consiglio Europeo, cioè l'organo composto dai capi di Stato e di governo propone un individuo come Presidente della Commissione e nel fare questa proposta deve tenere conto del risultato delle elezioni del Parlamento Europeo. Quindi i trattati ci dicono che quando il Consiglio Europeo sceglie il candidato per svolgere il ruolo di Presidente della Commissione deve sceglierlo nella forza politica che ha ottenuto la maggioranza alle elezioni del Parlamento Europeo. Questo meccanismo, che è un meccanismo che è stato introdotto dal Trattato di Lisbona, è un meccanismo che ha dato origine poi al cosiddetto sistema degli Spitzenkandidaten, cioè ogni forza politica del Parlamento Europeo propone prima delle elezioni del Parlamento il proprio candidato alla presidenza della Commissione e teoricamente il Consiglio Europeo dovrebbe poi scegliere il candidato proposto dalla forza politica che ha ottenuto la maggioranza del Parlamento Europeo. In realtà nell'ultima nomina della Commissione non è proprio stato così perché il Presidente che era stato il candidato che era stato proposto dal Partito Popolare Europeo era Weber e poi in realtà è stato scelto come Presidente della Commissione una candidata differente sempre del PPE che era appunto Ursula von der Leyen. Comunque il Consiglio Europeo sceglie il candidato alla figura di Presidente, lo propone al Parlamento Europeo e il Parlamento Europeo elegge il Presidente della Commissione. Dopodiché il Consiglio, cioè quell'organo composto dai Ministri degli Stati Membri insieme al Presidente decidono quali sono i commissari sulla base delle proposte fatte dai singoli Stati Membri. Quindi di fatto che cosa succede? che il Presidente della Commissione viene scelto nella forza politica del Parlamento Europeo che ha ottenuto la maggioranza, ma poi il Presidente una volta che viene eletto non ha la facoltà di scegliere i membri del proprio, diciamo così, governo e quindi i membri della Commissione. Perché i membri della Commissione sono poi scelti dal Consiglio insieme al Presidente sulla base delle indicazioni fornite dai singoli Stati. Quindi di fatto sono i singoli Stati che propongono il loro commissario. Questo fa sì che nella Commissione non ci sia omogeneità politica, perché appunto non è il Presidente che sceglie i membri del suo governo, ma si trova una commissione che è stata, che è composta dai commissari proposti dai singoli Stati Membri che ovviamente hanno tendenze politiche diverse. Una volta che i commissari siano stati scelti poi vengono sottoposti a un voto di approvazione da parte del Parlamento Europeo, così come è sottoposto a un voto di approvazione il Presidente. Il Parlamento Europeo quindi, cioè l'organo che rappresenta i cittadini, può solo dire sì o no a un pacchetto di commissari che gli viene proposto. Quindi il Parlamento Europeo non può, quando vota formalmente, quando diciamo così dà la fiducia alla Commissione, dire che gli va bene un commissario, non gliene va bene un altro. Può solo dire sì o no a tutta la Commissione nel suo complesso. Quello che può fare il Parlamento Europeo è, prima della votazione formale, informare gli Stati e il Consiglio e il Consiglio Europeo del fatto che qualche figura di commissario non è di suo gradimento e che quindi se questi commissari non saranno sostituiti poi voterà contro alla Commissione. Quindi ha questo potere, diciamo così, di ricatto, ma di fatto gli viene sottoposto, viene sottoposto alla sua votazione una Commissione già formata alla quale il Parlamento Europeo può dire sì o no. Questo vi fa capire come la formazione della Commissione, il procedimento di formazione della Commissione, sia profondamente diverso dal procedimento di formazione di un governo. Nei sistemi di democrazia parlamentare il governo è espressione delle forze di maggioranza del Parlamento e quindi è espressione del Parlamento stesso. Invece nell'Unione Europea no, l'unica figura che è latamente espressione del Parlamento è il Presidente ma poi i commissari non sono scelti in modo omogeneo come vengono scelti i componenti di un governo ma sono scelti dai singoli Stati membri. Quindi di fatto il Parlamento Europeo non ha il potere di esprimere un governo e questo è uno dei forti limiti che ha il Parlamento Europeo. Il Parlamento Europeo appunto è l'organo che rappresenta i cittadini. È composto da 705 membri. Adesso volevo farvi vedere una... Scusate. L'emiciclo del Parlamento Europeo. Sul sito dell'Unione voi vedete rappresentato l'emiciclo e poi vedremo che è diviso in gruppi politici. Il Parlamento Europeo appunto è l'organo che rappresenta i cittadini. È eletto ogni cinque anni a soffraggio universale diretto ed è composto dopo Brexit da 705 membri. Ogni Stato membro ha un certo numero di parlamentari europei e questo numero di parlamentari europei è deciso più o meno in modo proporzionale alla sua popolazione. Quindi uno Stato grande come la Germania ha ovviamente più parlamentari europei di quanto ne abbia uno Stato piccolo come può essere Lussemburgo o Malta. Però questa proporzione tra numero di parlamentari che spettano a uno Stato e popolazione dello Stato non è una proporzione perfetta. Nel senso che la distribuzione dei seggi ai singoli Stati tende ad avvantaggiare gli Stati meno popolosi. Quindi un parlamentare europeo di Malta rappresenta molti meno cittadini maltesi di quanti ne rappresenti un parlamentare europeo tedesco. Questo vuol dire che gli Stati molto popolosi come la Germania, i cittadini degli Stati molto popolosi sono sottorappresentati rispetto ai cittadini degli Stati poco popolosi. Per darvi un'idea, un parlamentare europeo di Malta rappresenta più o meno 80.000 cittadini maltesi e un parlamentare europeo tedesco ne rappresenta invece più o meno 800.000. Quindi c'è un certo squilibrio tra la rappresentanza dei cittadini dei diversi Stati membri. Mentre invece in un Parlamento federale la Camera bassa deve rappresentare in modo assolutamente proporzionale i cittadini di tutti gli Stati membri della federazione. Il Parlamento europeo poi si divide al suo interno in commissioni e soprattutto in gruppi politici. Cioè è suddiviso al suo interno in modo abbastanza simile a come è suddiviso un Parlamento nazionale che è suddiviso in partiti politici. I gruppi politici sono più ampi dei partiti politici nazionali, quindi i parlamentari europei si suddividono in gruppi politici che rappresentano più partiti nazionali. In particolare per costituire un gruppo politico bisogna che ci siano almeno 25 parlamentari europei che provengano da almeno un quarto degli Stati membri. E questi gruppi politici devono essere omogenei politicamente, quindi non possono esistere dei gruppi misti. Vedete qua, indicate i gruppi politici, se andate con il cursore nel sito dell'Unione su questa pagina vedete quanti seggi spettano ad ogni gruppo politico, ci sono otto gruppi politici, attualmente vedete il PPE, i socialisti eccetera eccetera. Se voi andate con il cursore sui singoli pallini che vedete nel nemiciclo del Parlamento europeo vi compare il parlamentare europeo che è seduto in quel posto e il gruppo politico al quale il parlamentare europeo appartiene. Quindi il Parlamento europeo è suddiviso in gruppi politici così come i parlamenti nazionali sono suddivisi in partiti politici, ma questi gruppi politici appunto sono molto più ampi dei partiti perché ricomprendono partiti nazionali che hanno la stessa tendenza ma che ovviamente sono diversi tra di loro. Il Parlamento europeo è un'istituzione che ha visto il suo ruolo cambiare moltissimo dall'inizio del processo di integrazione europea a oggi. Perché all'inizio del processo di integrazione europea il Parlamento europeo non solo non era eletto a soffraggio universale diretto ma aveva anche dei poteri molto limitati, poteva sostanzialmente dare solamente dei pareri non vincolanti. Oggi invece il Parlamento europeo è collegislatore, cioè partecipa in tantissimi settori all'emanazione degli atti insieme al Consiglio, ha dei poteri che si sono accresciuti tantissimo negli anni, ha ancora però dei limiti che lo rendono diverso da un Parlamento nazionale. Il primo limite che vi dicevo è quello al quale accennavamo prima, cioè il Parlamento europeo non esprime un governo perché sostanzialmente esprime solo il Presidente della Commissione, ma non tutta la Commissione. Poi il Parlamento europeo non ha il potere di iniziativa legislativa, quindi non può proporre gli atti dell'Unione europea che sono invece proposti dalla Commissione. E poi vedremo il Parlamento europeo ha dei poteri molto limitati, ed è questo il suo principale limite, nei due settori cardine del funzionamento di qualsiasi Stato, e cioè nel settore fiscale, e cioè delle risorse dell'Unione europea, e nel settore della politica estera e di sicurezza. Accanto alle istituzioni che abbiamo appena visto, accenniamo solamente alle altre due, e cioè alla Corte di Giustizia e alla Banca centrale europea. La Corte di Giustizia è l'organo giurisdizionale dell'Unione europea, ed è composto da un giudice per ogni Stato membro, la Corte di Giustizia vera e propria, perché poi a questa si affianca anche un tribunale, e la Corte di Giustizia è l'organo giurisdizionale, quindi controlla il rispetto del diritto dell'Unione europea, sia da parte delle istituzioni dell'Unione, sia da parte degli Stati membri. E infine abbiamo la Banca centrale europea, che è presieduta da Christine Lagarde, che è quell'istituzione che è stata creata solo quando si è dato vita all'Unione economica e monetaria, e che appunto gestisce la politica monetaria dell'Unione europea, ed è l'istituzione più federale di tutte, cioè l'istituzione più indipendente dagli Stati membri che esista nell'ambito dell'Unione europea. Quindi questa è la struttura istituzionale dell'Unione, che è una struttura appunto molto più complessa di quella delle organizzazioni internazionali classiche, perché prevede anche degli organi composti di individui, cioè di persone che agiscono in modo indipendente dagli Stati membri, perché sono organi che hanno il potere anche di adottare atti vincolanti, molto spesso a maggioranza, quindi è un'organizzazione internazionale estremamente evoluta. Però è un'organizzazione internazionale che si distingue quindi da uno Stato, cioè ha ancora dei caratteri non statuali. E il fatto che l'Unione europea abbia questi caratteri emerge molto chiaramente non solo da quello che abbiamo visto finora, e cioè dal ruolo che ancora hanno gli Stati membri nel funzionamento delle istituzioni. Pensate al fatto che sono gli Stati membri che propongono i commissari, che il Parlamento europeo rappresenta ancora in modo diverso i singoli Stati membri. Ma emerge anche e soprattutto da due settori ai quali faccio solo brevemente cenno, e che sono i due settori essenziali per la vita di uno Stato, e cioè il settore della politica economica e fiscale, quindi quelle competenze che consentono a uno Stato di garantire il benessere dei suoi cittadini e il funzionamento dello Stato, e la politica estera e di sicurezza. Quindi il versante interno e il versante esterno che sono i cardini della sovranità degli Stati. Allora, in questi due settori, che sono vitali per l'esistenza di qualsiasi organizzazione, l'Unione europea è ancora chiaramente totalmente dipendente dagli Stati membri. Cioè, in questi due settori, se non c'è accordo tra gli Stati membri, l'Unione europea non può funzionare. Partiamo dal finanziamento dell'Unione europea. Il sistema di finanziamento dell'Unione europea è un sistema abbastanza complesso, però vi dico solo qual è il dato fondamentale che vi fa capire come tuttora l'Unione dipenda dagli Stati membri. Allora, gli Stati membri innanzitutto decidono qual è l'ammontare del bilancio dell'Unione europea, quindi l'ammontare delle entrate dell'Unione europea. E queste entrate sono molto limitate, perché il bilancio dell'Unione europea è pari più o meno all'1% del prodotto interno lordo degli Stati membri. Inoltre, gli Stati sono anche i principali finanziatori dell'Unione europea, cioè il 70% del bilancio dell'Unione europea è costituito da versamenti degli Stati membri, da contributi degli Stati membri. Questo significa che se gli Stati membri decidono di non finanziare l'Unione europea, l'Unione europea non può più funzionare, mentre invece in uno Stato federale il potere centrale ha il potere di tassare i cittadini, il potere di imporre delle tasse e quindi di finanziarsi autonomamente dagli Stati membri. Nell'Unione europea questo non è possibile, cioè l'Unione europea non ha la competenza fiscale, non ha il potere di reperire direttamente le risorse dai cittadini, ma dipende dagli Stati membri. In questo settore, in quest'ultimo anno, si sono fatti dei passi in avanti, nel senso che in conseguenza della crisi sanitaria del Covid, si è ammesso per la prima volta che l'Unione europea possa fare debito e si è aperta la prospettiva che in futuro il finanziamento dell'Unione europea non sia più garantito da contributi degli Stati membri, ma da risorse proprie, vere e proprie, cioè che sia garantita la possibilità, ma questo richiederà però una riforma dei trattati, che l'Unione europea possa, attraverso una competenza fiscale, reperire autonomamente le risorse per il proprio finanziamento. Ma per il momento siamo ancora lontani da questo obiettivo, cioè per il momento il finanziamento dell'Unione dipende ancora dagli Stati membri e infatti trovare un accordo tra gli Stati membri in tema di finanziamento dell'Unione è sempre molto macchinoso e molto difficile. Per quanto riguarda l'altro versante, cioè la politica estera e di sicurezza, questo è un settore nel quale gli Stati membri decidono all'unanimità, quindi per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza ci vuole l'accordo di tutti gli Stati membri, perché si trovi una linea comune, e quindi l'altro rappresentante, che è il cosiddetto Ministro degli Esteri dell'Unione, che oggi è Borrell, non può agire se non c'è l'accordo di tutti gli Stati membri e questo è evidente sullo scenario internazionale, perché nelle maggiori crisi che si sono verificate negli ultimi anni l'Unione europea non è riuscita ad avere una posizione unitaria e quindi ogni Stato membro ha perseguito i suoi interessi e ha fatto la sua politica estera. A maggior ragione non esiste nemmeno una difesa europea vera e propria, cioè non esiste un esercito europeo, esistono delle forme di cooperazione in materia di difesa attraverso le quali però gli Stati membri forniscono degli uomini per delle forze di intervento, ma non esiste un esercito europeo che risponda a un governo europeo e che sia in parallelo con una politica estera dell'Unione europea. In entrambi questi settori, cioè quello del finanziamento dell'Unione e quello della politica estera e di sicurezza, l'organo che rappresenta i cittadini, cioè il Parlamento europeo, ha dei poteri molto limitati. Per quanto riguarda le entrate dell'Unione può solo dare un parere non vincolante, per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza viene semplicemente consultato, ma non ha dei veri e propri poteri. Quindi, come vedete, l'Unione europea è un'organizzazione internazionale estremamente evoluta, il processo di unificazione europea ha portato tantissimi benefici ai cittadini e ha fortemente integrato gli Stati dell'Unione europea e vedete infatti che uscire dall'Unione europea è estremamente complesso, come ha dimostrato Brexit, ma l'Unione europea deve ancora fare un passo avanti per diventare effettivamente una potenza nell'equilibrio mondiale, cioè per portare sulla scena mondiale gli interessi degli europei e la voce dei cittadini europei e per rendersi indipendente dagli Stati membri. Fino a quando l'Unione europea non farà questo passo in avanti e quindi non si trasformerà in uno Stato federale anche se leggero, molto decentrato, l'Unione europea continuerà a essere un'organizzazione internazionale e continuerà a lasciare aperta la strada per gli Stati membri di bloccare il suo funzionamento. Quindi, nella situazione attuale noi siamo ancora a un punto nel quale l'Unione europea ha estreme, tantissime potenzialità e possibilità che non ha ancora espresso perché ha ancora mantenuto questa forma di organizzazione tipica delle organizzazioni internazionali. Se l'Unione europea riuscirà a fare questo passo e quindi a trasformarsi in uno Stato, ad assumere sovranità, allora gli interessi dei cittadini europei saranno rappresentati in modo pieno e l'Unione europea potrà esprimere tutte le sue potenzialità sullo scenario mondiale.